Vieni pure Call of Duty, tipo You Kingdom A3 COGLIONE Non capisco chi acclama i morti di fama Che fanno libri di post-it senza trama Boban lo esclama, c'è chi do lì li chiama Sul web naviga meglio, vasco da gamma Altrimenti qui trovi il solito abbaglione Crede che l'ercio.it sia vera informazione e si incazza con te Nascondendo l'intenzione con beh Ma questa è soltanto la mia opinione Nuova generazione, dai cervelli bucati Come la new generation, videogiochi buggati Genitori svegliate, i vostri figli impacciati Altrimenti dovrete cominciare a farli impacciati E' caduto un compagno utilissimo Che svista il fedele iPhone del grandissimo Situo è prevista, ma come quando metto gli occhiali da vista Sexy dell'inacca di ormai è su ogni rivista Non so vuoi, non ballo come voi sfigati Introverso, sensazioni, razionalità Estroverso, percezioni, personalità Scopri i tuoi ambiti, grazie a MBT Tutto il test nel video di Shanty Lutz Dal pianeta in Ibiru metà ambita Gio 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 ci disegna la sua vita Dietro non c'è bisogno farmi il mio che dà Stogno e tonio, cartogno non l'ho sfigato Mi lo cotogno Leonardo De Carli, parla di film horror E' notte villa abbandonata, ci andiamo col cazzo io dormo Oppure che mentre tentano di uccidermi divento isterico Provo a chiamare qualcuno e la segreteria Mi dice che non ho più credito L'Uman Safari parte per fare i giri Prese e strafiga in giro Tutto il giorno cibo parigino nemmeno assaggiato Ma mangia il falafel più buono del mondo Au compétit, la tour Eiffel, il Notre Dame Museo de l'Ur, salta il tour de France Ma va a Notre Dame, ha visto di tutto, cosa vuoi di più? Mark the Hammer, Game of Thrones A cappella, con gli oggetti, cori assurdi E le percussioni, con libri, dividi e coltelli Vanno aiutano, partecipando, inviando vari video C'ha le idee della Madonna E onestamente un polo in video Ok, fammela provare un pochino così va? Marco Marino e dei videogiocatori medio Fanno tutti gli indie gamers tipo God Simulator Anche te piacciono i videogiochi? Dai, non ci credo Poi mi dici che il tuo preferito è Minecraft Se serio quando parli della grafica Diventano un sclero Fatti anticonformisti ma per me valete zero Perché adesso ho pure nerdano swag Sai che c'è? Teni pure Call of Duty Voglio Kingdom Hearts 3 Coglione Lesbi truccata dalla mecca vendata Un trucco rock'n'roll per ogni serata Un trucco serio come Dio comanda Anche se in via destinzione è come un panda Vi ho portato un regalo da Giappone Niente di serio ed è solo un'occasione E non capisco perché non volete amare Le deliziose che ande al gusto Riggio di mare Noiata o vittorio nel vostro repertorio Fastidiosi come il gusto del colluttorio Parlo delle battute del cinepanettone Che sono come il cinema di zombie Un mortorio di te i genti ormai Dove sono finiti? Tutti scemi come i nemici di essi uniti Andrei l'utile che protesti Abiti per tutti i contesti Manca solo Enzo Miccio Ma come ti vesti? Gli afrodisiaci sono tanti Per la serata Ordino banane, peperoncino e cioccolata Alla fine della menta Non credi? Decisamente Si apri bocca, vi casca i piedi Letteralmente Ora le canzoni non hanno senso Canto autore, ne ha di più una fatta Con l'autocorrettore Allora forse è vero Ho sbagliato direzione Rappo supposti Quando c'è bel tempo Che pensore! Salve a tutti Sono Panda per Indy Series Questa era la rap news di novembre Domani esce il mio video Charlie Bronson In allegato metterò anche il mio album Charlie Bronson Mixtape Mi raccomando Ascoltatelo Scaricatelo E se non vi piace Magalli Finale Sbora 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 Sbora